buonasera a tutti mentre vi connettete faccio se come sempre due parole su chi siamo noi sono dorian e sono uno dei fondatori della società dello zolfo la società dello zolfo è un centro di studi su occultismo ed esoterismo che da qualche anno dal 2015 si occupa portare corsi eventi e conferenze legati a questi mondi questa sera avremo un ospite speciale un ospite internazionale e avremo con noi la nostra valentina per la traduzione simultanea prima di introdurvi a il nostro ospite vi faccio un piccolo recap sulle nostre prossime attività abbiamo un corso che partirà il 23 di maggio sui miti nordici in quattro lezioni divise da due ore l'una con marco maculotti il direttore di axis mondi che tratterà appunto questo argomento di cui ha fatto anche diverse pubblicazioni ultimamente se siete interessati come sempre vi invito a scrivere la società dello zolfo chiocciolagmail.com perché vi arriveranno tutte le informazioni a riguardo al corso come attività legate ai corsi abbiamo anche a brevissimo vi preannuncio che riapriranno le iscrizioni per il nuovo anno dell'accademia del tarocco esoterico perciò chiunque di voi fosse interessato a imparare a conoscere e ad utilizzare soprattutto i tarocchi come strumento magico siccome i numeri i posti come ogni anno sono limitati vi invito a scrivere sempre alla società dello zolfo chiocciolagmail.com per mettervi in lista d'attesa e non appena pubblicheremo sarete i primi a saperlo vi annuncio anche che la prossima settimana daremo l'annuncio atteso di cui vi parlavo la settimana scorsa cioè della prossima occult convention come vedete non sono nella mia solita stanza qua nei commenti vi invito a indovinare in che stanza sono che qualcuno conoscerà che mi ospita questa sera per fare questa diretta e scherzi a parte quindi non ci sarà la sigla e questa sera vi introdurrò gli ospiti direttamente eccoci qua benvenuto a agen ad agenvontuli e benvenuta a valentina tridente che è la nostra traduttrice quando abbiamo gli ospiti internazionali ciao valentina ciao buonasera a tutti allora questa sera parleremo di un argomento eh che abbiamo trattato in diversi corsi abbiamo trattato anche nelle nostre eh conferenze dal vivo ma mai in una conferenza online e cioè la caos magico con chi lo faremo lo faremo con agenvontulian agenvontulian è un artista un occultista un personaggio una persona un occultista che ha un grandissimo background è eh ha fatto parte di diversi ordini esoterici è a capo della fraternità saturni è eh un vescovo gnostico dell'eclesia gnostica di michael bertiot e non per ultimo è stato uno dei membri dell'illuminati di tanateros nel periodo eh diciamo più importante eh fin dalla sua nascita si può dire e e quindi nessuno meglio di lui ci potrà parlare della caos magic perciò do un sentito benvenuto ancora ad agen you are welcome again and eh we can start possiamo partire eh le nostre domande allora la prima domanda che ti faccio è per introdurre tutti i nostri spettatori all'argomento di questa sera quindi ti chiedo di introdurci alla caos magic quando è nata e quali sono le sue caratteristiche fondamentali so welcome to to the seminar thank you for being here it's an honor to have you and we can start with the first question which is um if you could introduce us to chaos magic and maybe tell us when it was born and what are its fundamental characteristics yes uh i would say most people would agree that chaos magic emerged around nineteen hundred seventy eight in england eh la maggior parte delle persone potrebbero appunto dire ci si si concordano dire che eh la chaos magic è nata orientativamente nel millenovecentosettantotto at first eh it does not appear to with the name chaos or chaos magic all'inizio non si parlava di eh chaos magic letteralmente but it was a loose group of magicians who were very interested in all these magical practices and theories that were around at their time inizialmente era non era appunto un gruppo unito ma erano questi maghi sparsi che si sono interessati a questo tipo di pratiche they were very well versed in in these practices they studied a lot and they practice a lot all these magical practices and theories that were around at their time e studiavano molto praticavano molto appunto questo genere di magie in di quel periodo so uh let's have a look what kind of influences uh they had at this time e quindi cerchiamo di capire quali influenze c'erano in quel in quell'epoca there was a kind of magical revival at the end of the 1960s especially in england c'era una sorta di ritorno specialmente in inghilterra verso la fine degli anni sessanta it was very influenced still by the work of the golden dawn ed era particolarmente l'influenza maggiore era quella della golden dawn uh and of course because uh the golden dawn have had influenced a lot of other magicians like alistair crowley e dato che la golden dawn aveva influenzato tanti altri maghi come per esempio alistair crowley e quindi i movimenti principali che influenzarono questo periodo erano appunto quello di crowley e la wicca so uh these magicians who started later with the name chaos magic uh they looked at all these practices and techniques quindi quei primi maghi che si approcciarono a questo tipo di tecniche guardavano indietro a quelle del di crowley e della wicca and uh they recognize that it doesn't matter what kind of uh system you use you are still successful with your magics e quello che hanno scoperto è che non importava quale sistema si usasse che si poteva essere lo stesso avere solo stesso successo con la magia so the success of your endeavors and magic is it looks like it doesn't depend on on especially the system that you use quindi si sono appunto resi conto che il successo delle pratiche magiche non è strettamente legato a quale sistema veniva utilizzato so they found out that there must be some techniques that are common to all of these approaches and all of these systems e quindi hanno hanno riconosciuto che ci dovevano essere delle tecniche che erano evidentemente comuni a tutti questi a tutti gli altri sistemi magici so they their approach to magic was to find out what are these common techniques that all these different kind of systems have in common quindi l'approccio è stato proprio quello di identificare quali erano le tecniche in comune di questi sistemi diversi di magia so for example they found out that belief is not an absolute thing a fixed thing quindi per esempio hanno scoperto che il credo non era una cosa assoluta because one person could believe one thing and another person could believe a completely different and it works very well for both of them and it works very well for both of them quindi è più questione di trovare le parti essenziali della magia and with wrapping i mean some special symbol systems or some some belief systems uh this is a kind of wrapping what do you mean by can you spell wrapping for me please wrapping is uh how it is presented it's like like a present like a gift it's uh what is inside is always the same but outside how it is presented for example presented and it is packed quindi si sono resi conto che eh fondamentalmente quello che era all'interno quello che era la sostanza poteva essere la stessa e quello che cambiava era il modo in cui veniva presentato so some persons are for example uh attracted to the wrapping of the kabbalistic system for example or for a kind of goethic magic grimoire magic system this is a kind of wrapping which what i mean si sta usando questa parola che non so se è un gergo della magia comunque dice che alcune persone possono essere più attratte alla rappresentazione della magia di un tipo piuttosto che di un altro la simbologia di questi tipi diversi di magia but the essential techniques are basically uh always the same you could find these basic techniques the essence of everything you could find in all of these different systems ma le parti essenziali tecnicamente di tutte queste magie diverse sono simili sono le stesse so this was the mission of of the chaos magicians at this time to find out the essences the the common techniques among all these different kind of symbolic systems and approaches quindi all'inizio la missione di 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 questi studiosi di questi maghi della chaos magic era quello appunto di trovare quali fossero questi elementi in comune a tutti questi sistemi magici diversi so therefore you you could say that chaos magic is not simply another system another wrapping like like uh this other system it's more kind of meta system a kind of meta belief quindi in questo senso si può dire che la la chaos magic non è un altro sistema magico ma più un metro con cui misurare le altre magie uh and the chaos magician who is armed with this this knowledge with the knowledge about these techniques could approach all these other systems and work with them successfully e quindi un mago della della chaos magic era armato letteralmente di tutta questa conoscenza di tutti gli altri sistemi e poteva approcciarne uno qualsiasi con lo stesso successo and as i said before belief is not a fixed thing and it's not dependent on a special system uh you could also say that chaos magic is a kind of meta belief is a kind of meta belief an overall belief dato che appunto come dicevamo prima il credo non è una cosa fissa assoluta cambia di persone in si può dire appunto che la la chaos magic è una cosa che va al di sopra dei sistemi è una cosa più ampia and you could pin these essential techniques down for example to to five main basic disciplines e si può si può diciamo ridurre a cinque eh temi particolari della chaos magic so uh you have one wasn't one of this discipline is enchantment or sorcery quindi scusate era discipline cinque discipline quindi la prima è è incanto o sorcery è magia letteralmente and another one sorry my bad please continue another one is divination divinazione la seconda another one is evocation evocazione la terza and invocation invocazione and also illumination illuminazione yeah they must come from latin i guess exactly and uh also you could uh basically say that you mainly need uh very few component components to accomplish magic si può si può anche dire che si ha bisogno di pochi componenti per eh ottenere magia con successo and one is uh your personal intention your intent quindi uno è sicuramente la tua intenzione il motivo per cui lo fai and the other one is imagination e l'altro è l'immaginazione and this you could could dress up with beliefs for example questi si possono dress up do you mean like uh mix together no you could use every belief that you want you could use every do finish you could use every every you could use every belief in combination with intent and imagination for example the belief of the cabalistic system the belief of a shamanic approach or everything which you are attracted to quindi questi due si possono combinare con qualsiasi credo quello che uno preferisce cabalista o altri and then of course you need knowledge of the system of these uh where these beliefs are founded in e ovviamente c'è bisogno di avere una una conoscenza profonda di del dove questi credo provengono so this is a more the technical approach for kind of success and results magic questo è più un approccio per un approccio tecnico ai risultati della magia but i also want to mention another aspect of chaos magic which is already in the name and this is chaos ma un altro aspetto importante della della chaos magic è nel nome stesso ovvero il caos because many people think about chaos as it is a kind of disorder or something randomly something negative you say yeah he is making a mess out of his life uh he's making a chaos out of his life in generale si potrebbe pensare che la parola caos si riferisce a qualcosa di negativo di disorganizzato di disordinato come per esempio fare casino o incasinarsi la vita but that's not what we find in chaos magic ma non è quello che troviamo nella chaos magic because when you look at several of of belief systems of spiritual cosmologies you can find for example that a lot of them they have a kind of primal source a kind of void a kind of chaos at the beginning perché anche quando andiamo a vedere altri tipi di credo o di sistemi magici comunque al loro interno hanno un elemento di primitivo di caos e di disordine all'origine especially for example in in greek mythology they have also the name of chaos as a primal source per esempio nella magia greca hanno proprio caos come una delle fonti primarie della magia and this primal source this primal void this 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 chaos could also be called a kind of nothingness a kind of nothing e questo elemento primitivo a cui si risale si potrebbe quasi definire come un nulla un niente perché perché esisteva prima dell'inizio di qualsiasi cosa perché esisteva prima dell'inizio di qualsiasi cosa ma se lo guardiamo da un altro aspetto invece di niente si può vedere come una forma di pienezza e questo niente primitivo contiene tutto nella sua forma potenziale di quello che può divenire e quindi di conseguenza in questo nulla primitivo è contenuto dato che al di là del tempo e dello spazio ogni cosa che può essere ma anche ogni cosa che può non essere and especially our universe our cosmos as we experience this is an emanation out of this primal source out of this primal chaos e anche il nostro cosmo e il nostro universo sono l'emanazione di questo nulla primitivo e dato che tutto è contenuto in questo nulla primitivo potremmo dire che anche noi siamo nati da questo nulla primitivo è un'idea che si può trovare anche nel gnosticismo non ho capito la parola scusate gnosticismo detto gnosticismo 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 ok all right because I think that every being has a divine spark inside perché ogni essere, ogni persona ha una fiamma divina dentro the divine spark which also emanated from the primal source, from the primal creator of the universe la stessa fiamma divina che viene emanata appunto da questo nulla primitivo the absolute or the absolute god as I could also name it che si potrebbe chiamare anche il dio assoluto, la divinità assoluta so you could see that for the chaos magicians this is also an interesting and important aspect e quindi ovviamente per i maghi della chaos magic questo era un elemento molto potente, molto importante because when we are able to free our spark of the infinite in ourselves perché quando siamo in grado di liberare questa fiamma di infinito dentro di noi so we can connect with the primal source possiamo connetterci a questa fonte primitiva and therefore we could also use this immense potential and these infinite possibilities to create our own reality in the way that we want e quindi abbiamo la possibilità di accedere a questa immensa fonte di potere e quindi creare la realtà che noi desideriamo ok and so you, yeah, I think this was the main answer to your first question si, dici che più o meno era la risposta alla prima domanda ti lo è allora, dunque intanto thank you again e ringrazio anche tutti voi che siete sempre tantissimi qui collegati io vi ricordo anche che se avete delle domande da fare come al solito le faremo alla fine dell'intervento quindi scrivetele nei commenti che poi le guardiamo alla fine se vi vengono delle domande sì, sono a casa del direttore Marco Maculotti come ha scritto qualcosa da me qualcuno in chat, qualcuno l'ha preso bene, adesso scherzi a parte la domanda che voglio farti, Hagen, è questa una cosa che mi è sempre piaciuta della Chaos Magic è proprio il fatto che ogni mago porta all'interno di un gruppo la sua esperienza te la divido in due, vai ok, quindi per la prossima domanda una delle cose che sempre mi piace di Chaos Magic è che ogni e tutti ogni e ogni persona che va in un gruppo può portare la sua propria esperienza c'è chi porta ad esempio lo sciamanesimo, c'è chi porta le sue conoscenze cabalistiche, c'è chi porta il voodoo il punto che voglio chiederti anche per chi ci ascolta è questo una volta portate queste influenze all'interno del gruppo c'è una ritualità di base con cui si svolgono le operazioni magiche condivisa da tutti o ogni volta viene modificata? quindi una volta che abbiamo accaduto che ogni persona può portare la sua esperienza al gruppo è c'è un rituale codificato che il gruppo dovrebbe seguire o cambia ogni volta? uno dei più grandi dogmi della Chaos Magic è che niente è dovuto e tutto è possibile quindi come ho esperienza per esempio nel gruppo di Chaos Magic c'è una grande varietà di approcci e tecniche e presentazioni nella sua esperienza quando si pratica Chaos Magic di gruppo c'è un'enorme varietà di presentazioni e di credo che si possono utilizzare? sicuramente si possono trovare degli approcci più tradizionali per i quali c'è un inizio, uno svolgimento e una fine ma anche, specialmente in i miei tempi, quando ho lavorato molto molto con i gruppi c'è un'enorme varietà di presentazioni ma specialmente quando lui lavorava tanto con gruppi magici c'erano veramente un'enorme varietà di tipi di presentazioni perché la Chaos Magic è molto aperta alla sperimentazione e alla diversità perché la Chaos Magic è molto aperta alla sperimentazione e alla diversità la cosa più importante è che funzioni e che l'intento della magia sia raggiunto in effetti una delle cose che diciamo sempre con la società dell'Uzolfo è che a volte nel tempo si è parlato si è un po' messo in secondo piano la magia dei risultati ma in realtà la magia deve dare risultati ecco, lo diciamo sempre qui One of the things they always discuss in the society that we're working with tonight is that somewhere along the line the intent and the results of magic have been the intention of achieving results has been lost to study rituals and other stuff but that's kind of a problem Why is the intent lost? The fact that they don't concentrate as much on the results because magic has to work and they don't talk in magic society or magic conversation they don't talk as much about results and they talk more about rituals and techniques and stuff like that Yeah, but that's a good spending of time, yeah, to doing magic but at the end you want to achieve something with it, yeah, that's why you're doing magic Yeah, exactly, si dice effettivamente è bello parlarne, discuterne ma alla fine si vogliono anche ottenere risultati And also personally I don't see results not only to have to achieve results in the material world but I also see results in changing yourself and to make, as it's very popular to say at the moment to make the best version of yourself E comunque lui per risultati ovviamente non intende necessariamente quelli materiali ma anche nel cambiamento della persona nell'essere la versione migliore di noi stessi Certamente In the end it's what you achieve, the results is that what counts and not the overall spending of time or the theorizing of magic Sì, cioè quello che conta sono i risultati che si ottengono che siano materiali o che siano di crescita personale al di là del tempo che si passa o di quanto se ne possa parlare Bene, again, intanto ringraziandoti vedo che sono arrivate le prime domande continuate pure a fare delle domande a tema più che delle conversazioni Una delle tecniche fondamentali della Chaos Magic è quella dei sigilli, della sigillazione ti chiedo se puoi parlarne un po' alle persone che sono qua in ascolto Ok, so for the third question One of the fundamental techniques of Chaos Magic is that of the seals Can you tell us a little bit about that? You mean sigil magic? Sigil magic Sigil magic, that's right Yeah, sigil magic I think most of our listeners have heard about sigil magic or know about it or tried it out and sigil magic is important because I would say that it's around since the beginning of humanity Dunque, probabilmente tutte le persone in ascolto che stanno seguendo avranno sentito parlare appunto della magia dei sigilli anche perché è una delle più antiche è la magia o la pratica dei sigilli, scusate? Magia dei sigilli e perché è una delle più antiche che c'è fin dall'origine dei tempi For example, when you look at cave paintings from really, really, really former times you could find also kind of symbols sometimes very simple symbols like crosses or spirals or circles or something like this but also you could find some more complicated symbols that you don't know exactly what it means Persino se si va a vedere i disegni geroblifici delle caverne quindi si parla di parecchio tempo fa c'erano già nei disegni dei simboli che sono riconoscibili come per esempio delle croci degli spirali ma anche dei simboli che magari non sono così e se si guarda appunto alla storia della magia è facile scoprire che i sigilli hanno sempre accompagnato qualsiasi tipo di corrente magica che c'è stata storicamente For example, when you look at the sigils for the goethic demons there you could find a lot of different kinds of sigils For example, se si guardano i sigilli dei demoni goethic ci sono un sacco di simboli anche per quello Or just the basic symbols for the elements or for the planets o anche solo i simboli più semplici per gli elementi e per i pianeti But what Dorian means in the context of chaos magic, the sigillization you could trace this back to an English magician and artist by the name of Austin Osman Spear però probabilmente quello che intendevate nella domanda è che nella Chaos Magic si va indietro a un mago in particolare e mi deve aiutare con il cognome Austin Osman Spear Spear, ok, me lo segno in cui la magia dei sigili è particolarmente presente Austin Osman Spear was also around at the beginning of the 19th century like Alistair Crowley Osman Spear ha lavorato all'inizio del 1900 in contemporanea con Crowley e con Crowley lui ha detto in contemporanea, poi vediamo e ha decisamente ispirato poi le persone che hanno creato la Chaos Magic perché ha promosso un approccio molto personale alla Magia e libero di tutti questi rituali trappini e questi sistemi complicati di credito che abbiamo parlato prima e soprattutto un approccio libero da tutte queste trappole, rituali e sistemi complicati di cui abbiamo parlato prima e perché Spear era anche un artista oltre che un mago e dato che Spear era anche un artista oltre che un mago è quello che lui chiamava i suoi sigilli personali e lui era promotore dell'idea che oggi è molto più popolare che ognuno di noi può creare i suoi sigilli non c'è bisogno di cercare determinati specifici simboli o sigilli nei grimori antichi per fare determinate magie o rituali l'unica cosa è che c'è bisogno che sia chiaro qual è la tua personalissima intenzione magica e quindi scrivere la tua intenzione in una maniera soddisfacente e positiva e poi eliminare tutte le lettere che appaiono più di una volta alcuni dicono che si possono rimuovere tutte le vocali e con le lettere che rimangono si può costruire un sigillo personale e questo sarà il focus e con questo il focus sarà quello poi di utilizzare il tuo sigillo personale per lanciare, per emanare il tuo rituale magico nel mondo e questo è l'approccio principale che i più conoscono alla magia dei sigilli ma potete anche experimentare con questo, per esempio, potete non solo creare un sigillo visibile ma potete creare un audiovisuale, un tipo di spazio magico o un tipo di mantra magico out of these remaining letters quello che abbiamo descritto è quello più diffuso ma in realtà poi con le lettere rimanenti dopo aver scritto l'intenzione si possono creare anche dei sigilli audio, per esempio, o vocali non necessariamente scritti e non è l'unico metodo che appunto Speer usava e dato che era un artista lui ha sperimentato con tanti altri diversi usi di questa tecnica per esempio ha creato un alfabeto del desiderio per esempio ha creato un alfabeto del desiderio e di volta in volta in diversi momenti e situazioni della vita Bene, ti ringrazio per questa risposta io vedo che state facendo le domande, continuate pure faccio un momento di vendita nel senso che se siete interessati ai libri di Austin Osman Speer sono stati tradotti da Roberto Migliussi e li trovate presso il sito Il Labirinto Stellare Il Labirinto Stellare andate a guardare, trovate un sacco di roba interessante potete ordinare i libri di Austin Osman Speer Again, that's our common friends Yeah, Roberto is doing a great work, yeah e poi se volete sapere di più qualcosa di più sulla tecnica di sigillazione che vi ha spiegato Hagen qui potete prendere Liber Null di Peter Carroll e poi Hagen Von Tulien ha tenuto con noi due corsi di Chaos Magic che sono disponibili sulla nostra piattaforma Vimeo e potete acquistarli on demand sono corsi di tipo 8 ore, 10 ore che vi insegnano proprio le basi della Chaos Magic per accedere sotto al video trovate un link al nostro canale Vimeo andate sul nostro canale Vimeo e potete acquistare i corsi che sono proprio online e sono on demand Bene Dopo questo momento pubblicità una domanda la prossima domanda è questa l'ordine che è legato alla Chaos Magic si chiama Illuminati di Thanateros ti chiedo e di cui tra l'altro tu hai fatto parte ti chiedo se puoi spiegarci come si dividono i gradi all'interno dell'ordine e qual è la struttura dell'ordine So after this small advertising moment we can continue with the questions and the next one is the order linked to Chaos Magic is called the Illuminati of Thanateros which you were part of could you explain to us how the internal grades are divided and what is the overall structure of the order? Yeah, as I mentioned before in the beginning of the so-called Chaos Magic movement there was only a loose group of magicians come ci diceva all'inizio inizialmente nella Chaos Magic c'era solo delle persone sparse non organizzate che si interessavano a questa magia it was more or less a small group in England c'era un più o meno piccolo gruppo in Inghilterra and they had the name Illuminati of Thanateros e loro avevano appunto il nome di Illuminati di Thanateros it's interesting in the first writings and advertisements of this group the term Chaos never appeared even in the first version the first edition of the really main important book for the Chaos Magic movement Liba Null there is no mention of Chaos or Chaos Magic the term Chaos Magic just came a little bit later and it appeared in the second edition of Liba Null e il nome Chaos Magic è comparso nella seconda edizione di un testo che si chiama what was the name of the book? or the edition? Liba Null in the second edition of Liba Null the first time that the term Chaos Magic appears not in the first edition but in the second edition Liba Null può essere? Liba Null Liba Null e dato che era comunque un gruppo così piccolo di persone non c'era bisogno di una gerarchia vera e propria in the first times of this group they also have names for special achievements they did or they didn't have names? they have, they had names they have names allora nella prima parte di questo gruppo avevano dei nomi per i risultati che riuscivano a ottenere nel testo è proprio scritto che non c'è una differenza non c'è una scala gerarchica ma ci sono dei titoli dati in base ai risultati ottenuti con le varie pratiche quindi c'era una sorta di misurazione dei voti come una votazione dei voti che venivano dati but it's not in kind of hierarchy it's more kind of what people have already accomplished what they were able to do, for example ma non era una gerarchia era semplicemente una divisione in base a quali risultati avevano ottenuto quali capacità avevano sviluppato so for example absolute beginners are called students or novices or neophytes per esempio appunto i principianti assoluti vengono chiamati studenti o neophytes and people who are already on the magical path who have experience with magic, with ritual magic and other areas of magic they could be called initiates oppure chi invece aveva effettivamente fatto pratica aveva ottenuto risultati con la magia and people who are very well versed in their kind of magic they could be called adepts invece quelli che erano più diciamo avevano fatto più pratica erano più a loro agio con tutte le pratiche magiche avevano un altro nome che però non ho capito non so se Dorian lo sa neophytes, iniziati what was the name of the more adepts adepti 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 and of course at least a person who is really really excellent in magic and has a lot of experience and knows a lot of knowledge and wisdom he could be or she could be called master e alla fine chi aveva un'esperienza l'esperienza maggiore aveva un pacchetto diciamo di conoscenza più vasto ed era completamente pratico di tutti i tipi di magia poteva essere chiamato master o maestro so in the beginning it was not a kind of hierarchy or a hierarchic system but more to see where people stand in their development or in their achievements of magic si non era comunque un sistema gerarchico era semplicemente per identificare il livello di conoscenza delle persone all'interno del gruppo and later on the IOT the illuminates of Tenateros became much more global because a lot of people were interested in and then there were a lot of members worldwide successivamente però questo gruppo degli illuminati di Tenateros è diventato sempre più conosciuto e ha ottenuto sempre più persone che erano interessate a partecipare anche a livello mondiale di conseguenza è diventato necessario per gestire una situazione molto più ampia di creare un sistema gerarchico per organizzarsi e a questo punto i gradi di cui parlavamo prima venivano anche cioè il tipo di livello che si aveva raggiunto veniva anche affiancato da dei ruoli amministrativi all'interno del gruppo for example only initiates were able to run a temple in the IOT and also adults and maguses but not students of course per esempio solo dal livello di iniziati in su si potevano gestire effettivamente dei templi mentre gli studenti per esempio no and people with the degree of the magus they were the people who were running the whole thing e quelli che avevano il livello di maghi potevano gestire tutta la baracca sostanzialmente and at this point to put it all down to paper Pete Carroll wrote a kind of book where all these structures are which contains all these structures which was called liber pacciones quindi a un certo punto è stato scritto questo libro che conteneva tutta la gerarchia la spiegazione i gradi le dinamiche all'interno del gruppo che era il liber fracciones pacciones liber pacciones from pact liber pacciones libro del patto sarà il libro del patto ok and at this point also illuminates the complete name was the magical pact of the illuminates of Tanateros perché il nome completo del gruppo era il patto magico degli illuminati di Tanateros or in short the pact o abbreviato il patto and also at this time several other degrees were incorporated for example you needed a grand master or there was a position of the elder for people who are very old and retired from active duties for example ma bene a questo punto quindi altri gradi cioè man mano che la cosa si ampliava e prendeva forma sono stati introdotti altri gradi all'interno appunto della gerarchia come per esempio quello degli anziani che sono dei membri ovviamente più attempati che hanno praticato che sono stati in posizioni di privilegio che magari si stanno un po' più a riposo and later this Liber Pactiones was reworked by the members and it's now available by the name the book only the book quindi questo Liber Pactiones originale è stato poi riscritto, rielaborato, rivisitato dai membri e adesso si conosce solo come il libro and you are able to download this as a PDF on the IoT pages worldwide questo libro si può scaricare in PDF dal sito appunto del gruppo da tutto il mondo but at this point I cannot tell you any more about the grades system or the internal handling of these grades because I stopped being an active member about 20 years ago comunque non posso dirvi molto altro delle varie sfumature dei gradi e dei ruoli all'interno perché ho smesso di essere un membro attivo vent'anni fa I was a member during the 90s, I joined in 1992 and I became the section head of the Pact of Germany e mi sono entrato a far parte nel 92 e sono diventato a capo della sezione della Germania in quel periodo but since 20 years ago I'm following mainly my only, my personal, my individual chaos magical path and only with close friends and close, yeah, with close magical friends Sì, da vent'anni a questa parte seguo la mia personalissima visione della Chaos Magic e quella solo di alcune persone scelte e molto vicine a me Sei muto, Sad? Una domanda, Hagen Non so se questo c'era anche quando c'eri tu dentro però io so che una cosa che è particolare degli Illuminati di Tanateros è che, se non ricordo male, i gradi più bassi controllano che i gradi più alti facciano bene il loro lavoro Just one more question on the group and he's not sure whether this is true or not but was it true that the lower, let's call them grades were in charge of making sure and keeping in check that the higher grades were doing their job well? Ah, I think you mean the role of the insubordinate The role degli insubordinati Yeah, that's right that was one of the main new inventions of this system Era una delle principali nuove invenzioni del sistema Because every member who had a kind of important position like a person who was running a temple or even the grand master of everything Dal momento in cui chi aveva delle posizioni appunto di rilevanza quindi magari che gestiva un tempio o comunque era un maestro They've got another member on their side to have a look if they are fulfilling their duties in a very proper way and this person was called the insubordinate Ognuno di questi ruoli di rilevanza aveva al suo fianco un altro membro che era il cui scopo, il cui dovere era quello di essere sicuro che il lavoro venisse fatto bene e il nome di questo grado era insubordinato And Jesus was a person from lower grades and he was elected also from other people from the lower grades so to make sure that it was not a good friend of the person Sì, e comunque apparteneva a dei gradi più bassi per accertarsi che non fosse un amico stretto di chi aveva invece il ruolo quello più di potere And this was really a new and unique element that was very typical for the IoT E questo sicuramente è uno degli aspetti che rendono gli Illuminati di Tanatero su un gruppo unico nel suo genere Bene, allora mi stanno chiedendo alcuni se parleremo degli dei del Necronomicon e del Necronomicon e del Chaos Magic Sì, è la prossima domanda ma prima ho una domanda per te Hagen che è questa Austin-Osman Spear, rapporto tra arte, era un artista e la magia Tu stesso sei un artista e ti occupi appunto di magia Ti chiedo, puoi parlarci del rapporto tra la Chaos Magic e l'arte? Sì, c'è una connessione molto profonda ma non solo tra la Chaos Magic e l'arte ma proprio tra l'arte e la magia in generale E lui infatti prima ci parlava dei dipinti nelle caverne Sì, è noto che in qualsiasi ritrovamento archeologico di qualsiasi epoca di qualsiasi periodo storico fin dall'inizio dei tempi si possono trovare dei simbolismi delle decorazioni dei disegni che si rifanno a idoli a divinità e cose però comunque legate all'arte E' sempre stato un modo per gli esseri umani di esprimere i misteri Ancora prima che esistesse la scrittura comunque l'umanità, gli uomini hanno trovato un modo di esprimere la loro spiritualità e il loro pensiero attraverso appunto dei disegni, delle forme di arte di qualche tipo O per esempio quando troviamo delle mummie molto antiche potete anche trovare che erano decorati con un uomo molto artistico o che avevano dei tatui molto artisti su loro corpo Persino se guardiamo le mummie comunque sui loro corpi troviamo delle decorazioni tipo tatuaggi e anche erano poi seppelliti con tutto un display di gioielli di decorazioni che andavano a imbellire il corpo L'arte è sempre stata presente per esprimere i misteri Ancora quando guardiamo le immagini religiose per esempio in ogni ricerca vedete un'arte l'arte le immagini le immagini le immagini le statue l'arte è totalmente presente persino se pensiamo alla religione in qualsiasi epoca storica se si va in una chiesa se si va in un museo la quantità di materiale artistico prodotta in funzione della religione è straordinaria perché l'arte è in grado di esprimere il concetto del mistero in modi con cui la parola non è assolutamente in grado di fare perché tra l'altro il potenziale incredibile dell'arte è che quando si esprime la magia attraverso l'arte anche persone che parlano lingue differenti possono accedere lo stesso a questo incredibile contenuto in questo senso si può quasi dire che in un certo modo l'arte è magica è magia bene ti ringrazio allora mi dicono che abbiamo appena raggiunto i 10.000 iscritti quindi grazie a tutti voi che ci seguite sempre e quale domanda migliore per festeggiare questo momento parliamo di una cosa molto affascinante legata alla Chaos Magic cioè Necronomicon e Chaos Magic perché all'interno della Chaos Magic sono state utilizzate le formule del Necronomicon e anche le evocazioni alle divinità legate a questo libro sappiamo che ci sono appunto dei rituali che sono dedicati al Pantheon Lovecraftiano ci puoi parlare di questo? so a good way to celebrate they just reached 10.000 subscribers on the channel just now so he was thanking everybody for subscribing is to ask you about Necronomicon and Chaos Magic we know that there are rituals dedicated to the Lovecraftian Pantheon and can you tell us about them? yes, of course the Lovecraftian gods, the Lovecraftian entities they are of special interest to magicians and especially to chaos magicians quindi le divinità Lovecraftiane ok sono di particolare interesse per chi si occupa, chi si interessa di Chaos Magic perché queste entità, queste divinità sono qualcosa al di là dell'essere umano e sono persino al di là di quelle divinità che l'uomo conosce come per esempio quelli planetari they are somehow so far away that they are very appropriate to associate with the primal chaos of course sono talmente al di là che è opportuno paragonarli appunto al caos primordiale e quindi non è un mistero che l'approccio Lovecraftiano faccia parte dell'approccio che si ha alla Chaos Magic per esempio for example the first example spell in the first Chaos Magic book that we mentioned before Liber Null, the first spell there was I wish to obtain the Necronomicon di conseguenza per esempio di conseguenza per esempio nel Liber Null che era il libro che lui nominava prima si può trovare una richiesta come spero di trovare il Necronomicon and some years ago Pete Carroll published another book which is called The Epoch which means the esotericon and the portals of chaos quindi qualche anno fa Peter Carroll ha pubblicato un libro che si chiama necronomicon forse ce l'ha it's called The Epoch it's called The Epoch ah l'epoca? Epoch il posterico e portale del caos exactly and in this book he presents three grimoires an elemental grimoire, a planetary grimoire and a Necronomicon grimoire in questo libro lui presenta dei grimoire del necronomicon planetari for the elements, for the planets and for the Necronomicon gods ok quindi per i pianeti, per gli elementi, per le divinità dei pianeti degli elementi e del Necronomicon so but of course it's not a speciality of chaos magic but many of these lovecraftian gods they are associated already with chaos non è una specialità della chaos magic ma molte di queste divinità lovecraftiane sono già associate alla chaos magic for example in the lovecraftian mythos the god Asatoth is called the blind idiot god at the center of chaos the blind idiot god at the center of chaos the idiot, il dio idiota che è al centro del caos blind per se cieco però ha detto anche idiot ok the blind god at the center of chaos in the center of chaos in the center of chaos in the center of chaos he is blind because he cannot see and he is idiotic because he doesn't know what he's doing and he is dreaming all of creation into existence ok lui è cieco perché non riesce a vedere è idiotico ma non nel senso di idiota nel senso che non conosce non sa quello che sta facendo però allo stesso tempo sta creando tutta una serie di cose. Dunque lui sta creando tutte le cose in esistenza ma il nesso qual è? Che si dice idiotico ma nel senso random che lo possiamo dire anche in italiano, cioè un po' casuale e dato che casuale si rifà ovviamente al termine di caos. E ovviamente questa descrizione è molto interessante specialmente per i maghi della Chaos Magic. Ci sono però degli altri approcci al mito lovecraftiano. C'è per esempio l'ordine esoterico di Dagon e dato che questo nome viene da una delle storie di Lovecraft ma esiste proprio come un ordine al giorno d'oggi. E questo ordine che esiste ancora oggi sta lavorando con lo stesso tipo di approccio della Chaos Magic e dei sistemi che usa la Chaos Magic. So for everybody who is interested into Lovecraftian Magic I could really recommend this esoteric order of Dagon they published some books at the moment and they are very active. Se qualcuno fosse appunto interessato quindi alla magia lovecraftiana l'ordine esoterico di Dagon che è molto attivo sta pubblicando effettivamente delle cose anche recentemente che si rifanno proprio a quello che sono molto interessanti e lui le raccomanda. E potete andare su esoteric order of Dagon.net per trovare questi libri. Inoltre Agen è un gentleman non lo dice ma ha fatto uno dei due corsi che è in vendita online su Vimeo suo nel nostro canale nel nostro Vimeo che trovate qui sotto si chiama Stellar Gnosis e parla proprio tratta proprio dell'interazione con le divinità lovecraftiane. Yeah, I was saying you're being a gentleman and you're not saying that you did a class in their paid courses that they can purchase in which you taught about lovecraftian magic and that they can learn. Yeah, okay. I was not in the mood for doing some shameless self-promotion. Mi dice che non era nel mood di fare della pubblicità svergognata spudorata, scusate. Bene, allora continuiamo con le nostre domande e poi abbiamo ancora un paio di domande e poi passiamo alle vostre se ne avete alcune oltre a quelle che sono già state le possiamo mandare. Intanto Valentina sta imparando molte cose sull'Ecronomicon stasera anche. Ah ma ogni volta raga io mi faccio una cittura. Qualcosa. allora una delle domande che ti faccio è questa ah no aspetta questo qua te l'assalto perché ne hai già parlato potresti parlarci del mondo virtuale di internet in rapporto ai nuovi protocolli magici della Chaos Magic cioè internet e la Chaos Magic. So could you tell us in your opinion what's your view on the relation between the new magic protocols of Chaos Magic and the internet the virtual world of the internet? Yeah Chaos Magic was very computer friendly for example since the beginning and say computers were very home computers became available during the 90s and of course Chaos Magician always experimented with this new medium. In realtà la Chaos Magic è da sempre computer friendly cioè propensa per il mezzo tecnologico e i primi computer diciamo da casa che ci sono che ci sono arrivati erano appunto negli anni 90 e ai maghi della Chaos Magic da subito è piaciuto sperimentare con questo nuovo mezzo ovviamente uno dei primi utilizzi era quello appunto comunicativo perché dato che comunque è un ordine che era diffuso a livello mondiale ha reso più facile la comunicazione tra i vari membri e hanno anche esperimentato con approcci che chiamavano Cyber Magic per esempio hanno hanno subito anche sperimentato con quella che si può definire la magia vabbè è più bello Cyber Magic che cibernetica cioè la magia Cyber ciber idea si crede che in questo paradigma tutto si può ridurre ridurre a una fonte di informazione e quindi è possibile trasferire qualsiasi tipo di informazione attraverso la magia perché l'informazione esula dal tempo e dallo spazio Ad oggi la Chaos Magic è diffusissima sul web e su internet facendo anche delle ricerche semplicissime si può trovare tantissima roba ci possono trovare un sacco di gruppi Facebook dove si parla di Chaos Magic ma la maggior parte di questi gruppi per me sono molto disappointi e biori devo dire però personalmente dal suo punto di vista la maggior parte di questi gruppi Facebook sono molto noiosi e deludenti e per questo ha creato il suo gruppo di Facebook di Chaos Magic che si chiama Chaos Cultos is that right? Chaos Cultos yes and I'm still looking forward to the application of these new technologies for example like virtual reality in realtà lui è molto interessato cioè non vede l'ora che ci siano delle nuove applicazioni della magia appunto a questi nuovi mezzi come per esempio la magia virtuale perché in recent we did a lot of ritual meetings online but on Zoom for example perché soprattutto negli ultimi anni loro si sono si è ritrovato molto spesso a fare degli incontri rituali con mezzi quali Zoom per esempio era un modo molto efficace di incontrarsi nonostante le distanze perché in former time we often experimented with rituals that were happening at the same time worldwide ah hanno sperimentato con dei rituali che avvenivano a livello globale però nello stesso momento ma con questi nuovi mezzi come Zoom è anche possibile vedere l'altro essere presenti in una virtual room ma con questi nuovi mezzi come Zoom per esempio adesso questo tipo di rituale contemporaneo si può fare con una sorta di presenza anche se virtuale e vorrebbe che qualcuno creasse una sorta di piattaforma di realtà virtuale dove ti puoi appunto incontrare in una in un setting però molto realistico e molto veritiero e per fare cose insieme sì sarebbe molto interessante anche perché lui passa molte ore a provare effettivamente la realtà virtuale con con anche i visori quelli apposta per quelli 3D e dice che anche solo l'esperienza appunto di questi visori è incredibile quindi si immagina che l'idea di fare appunto di praticare dei rituali magici insieme in una realtà virtuale tutti allo stesso momento potrebbe essere molto interessante and magicians were always on the forefront of developments in every area of life i maghi in generale sono sempre stati in prima linea per ogni tipo di cambiamento di evoluzione in ogni aspetto della vita and especially this is the approach of chaos magic and each chaos magician also want to be up to date in every area of life e questo in generale è soprattutto l'approccio della chaos magic e ogni mago di questa appartenenza vuole essere al passo con i tempi della tecnologia e del progresso tecnologico and therefore I'm really interested in seeing how these new technologies could be effectively incorporated in a kind of magical way e lui è molto interessato a scoprire come tutte queste nuove tecnologie si possono effettivamente integrare nel rituale magico nella pratica della magia bene molto interessante allora io adesso farò l'ultima domanda e poi passiamo a qualche domanda del pubblico che se no facciamo troppo tardi l'ultima domanda che ho per Agen è questa è molto semplice quali libri consiglieresti tre titoli che consiglieresti a chi c'è in ascolto per introduzione alla cost magica ok raccomanderebbe il libro che ha iniziato tutto ovvero il liber null e in particolare questa riedizione che è stata reintegrata rivisitata ed è più comprensiva ed è circa un anno due fa anche questo libro che ci ha fatto vedere che è sempre di carroll che è epoch questo libro e tra l'altro questo libro contiene anche delle carte con delle divinità necronomiche che possono essere usate non solo per la divinazione ma anche per dei rituali per ultimo questi due libri che sono entrambi di Phil Hine sono molto utilizzati sono molto popolari tra i principianti perché sono molto chiari e possono essere d'aiuto allora ti ringrazio molto io direi di passare un po' di domande del pubblico rapidamente così ne facciamo un po' allora la prima che ti faccio è questa che mi piace perché ha citato un autore che mi piace molto dice nell'ultimo anno leggendo anche i testi di Aidan Watcher ho pensato che in effetti da un po' di anni la Chaos Magic abbia adottato un approccio post-caota come definire questa fase attuale post-caota tipo posteriore cioè dopo ok diciamola così so this comes from Muslu Wawa and he's saying or she's saying I'm not sure that in the last year he or she has been reading the books of Aidan Watcher and he or she has been thinking that in the last few years the CM has adopted an afterwards approach is that so and how would you define this now phase define what the phase of this time being Aidan 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 Watcher he was also a chaos magician in the beginning that is his background I'm sorry chaos magic was his background in the beginning and yeah and his books especially his first book what was his name The Six Ways it was called The Six Ways it was the first book it's really a new emergence of he didn't call itself chaos magic but he was inspired and by all his previous experiences of course and he puts this in puts this book down in a way which is appropriate for the times now and for his experiences now I like I like Aiden's books a lot especially Six Ways it's a great practical book I also could recommend it it's not explicitly chaos magic but it's very practical and pragmatic I could also recommend it a lot si dice che comunque è un libro che raccomanderebbe perché effettivamente non è necessariamente di chaos magic ma un approccio pratico che può essere utile però secondo me non ho veicolato io la domanda perché forse non l'ho capita me la vuoi spiegare meglio vabbè ma era posta anche un po' posto un po' non ho capito a che fase si riferisce la fase dice della chaos magic oggi ok rispetto a quella di Aidan Watcher no la chaos magic oggi c'è quella di Aidan Watcher rispetto alla chaos magic tradizionale ah no allora ha risposto ok ok I'm sorry we were just clarifying that I understood the question correctly but you answered perfectly so we're good we're good ok tra l'altro ve lo consiglio anch'io quello di Aidan Watcher Six Ways è un bellissimo libro per tutti quelli che sono in ascolto che vogliono approfondire un grande libro quello contemporaneo e quindi Mariela Caruso scrive Austin Osborne Speer ha cercato di entrare nell'astro margento ma non ce l'ha fatta alla fine vero c'è c'è un motivo per cui non non ci è riuscito so Mariela wants to know if it's true that Speer tried to enter the Astor Argentum but he never could in the end and is there any historical data on the reason is there any historical data on the reason he was not in yeah that's correct because Austin Osborne Speer and Alyssa Crowley met in London sì è corretto perché Speer e Crowley si sono incontrati a Londra and Alyssa Crowley was interested to have Austin Osborne Speer as a member in the AA e Crowley era effettivamente interessato ad avere Speer come membro nella AA of course it's not definitely clear why at the end Austin Osborne Speer left the AA very quickly non è chiarissimo non abbiamo dei dati certi sul perché Speer alla fine poi se n'è andato dalla AA because Speer was only I think only for a short time a member of the AA anche perché è stato membro per un breve periodo in realtà and most historians they say that most properly it was for one thing it was a financial thing e allora molti storici dicono reputano che probabilmente è stato per l'aspetto economico and because Alistair Crowley he was quite rich because he inherited a great amount of money from his father after his father passed away perché Crowley era benestante e aveva ricevuto un'eredità importante da suo padre quando era morto and Austin Osborne Speer at this time he had to really fight for his living and he had not so much money at this time mentre Speer aveva solo i suoi mezzi e era impegnato a cercare di sopravvivere se non ricordo male c'è proprio una lettera che Speer scrisse a Crowley in cui spiegava che non aveva i soldi per comprare questo particolare indumento che i membri dovevano indossare and if I remember right Alistair Crowley wanted to sponsor Austin Osborne Speer in these matters because he hoped for some artistic contribution to his Equinox publication for example e sempre se non ricorda male Crowley voleva sponsorizzare direttamente cioè voleva insomma foraggiare direttamente la partecipazione di Speer di Speer perché sperava in un ritorno di tipo artistico con la illustrazione dell'equinox da parte di Speer and the other reason is that maybe as Austin Osborne Speer he was not so interested in all these ritualistic endeavors and he was more interested in a kind of reductionist approach as you could see or could read in his main book The Book of Pleasure e un altro motivo potrebbe essere che Speer effettivamente non era così interessato all'aspetto ritualistico della pratica magica come invece per esempio l'Ordine di Crowley ed è una cosa che possiamo riscontrare in uno dei suoi libri ovvero Il Piacere di Speer bene per dunque questa di Luca Rodolfi rapidamente buonasera si possono trovare particolari corrispondenze astrologiche nei sigilli del Necronomicon per quanto riguarda la stella Agnosis Ok, so this is from Luca, he says good evening and can you find any particular astrological correspondence in the Necronomicon sigils as far as the stellar Agnosis is concerned? Personally I would say no, there are some people who like to attribute the gods to some stellar systems for example like Sirius or Aldebaran or I don't know but for me it doesn't make any sense Lui dice che personalmente non è d'accordo, ci sono delle persone che cercano di trovare dei riferimenti ad alcune divinità però lui non trova questo tipo di corrispondenza It's mostly said that these elder gods they inhabit the spaces between, the dark spaces between the stars Quello che c'è è che gli elder gods che sono quelli più antichi, le divinità più antiche occupano gli spazi, they occupy the space in between The spaces between the stars Degli spazi tra le stelle, questo è il massimo di corrispondenza Ok, adesso abbiamo una domanda che mi ha fatto sorridere, dunque, che è di Eliphas Levy e dice Ciao a tutti, che ne pensa di quel discorso tenuto da un alticcio Grant Morrison sull'efficacia dei sigilli? Ma io la metterei diversa, direi che ne pensa del discorso tenuto da Grant Morrison Quindi io metto la parte del... Grant Morrison ha parlato di Chaos Magic in un famoso video Sì Che è molto bello, che tra l'altro consiglio a tutti se non sapete che Grant Morrison dovete assolutamente informarvi Questo ve lo do come consiglio spassionato Grant Morrison ha fatto un video parlando di Chaos Magic, allora cosa ne pensa di quel video? So, Grant Morrison made a video on the efficacy of the power of sigils and Chaos Magic And has become quite famous, what do you think about that video? I don't know if I watched this video, but Grant Morrison, he really did a great job to promote Chaos Magic Especially during the 90s and the beginning of 2000 Non è sicuro di aver visto il video in questione, però Grant Morrison ha fatto un ottimo lavoro promozionale per la Chaos Magic Specialmente negli anni 90 e 2000 C'è un articolo di Grant Morrison che si chiama Pop Magic You could find it very easily on the internet as a PDF and it was also published in a book called The Book of Life Also there is an interesting article about Magic or Chaos Magic some years ago in the heavy metal comic magazine by Grant Morrison Inoltre ci c'è un altro articolo molto interessante sulla Chaos Magic in un giornale heavy metal E' interessante che Grant Morrison più o meno è stato lui a creare il termine iper sigillo Per spiegare l'ipersigillo brevemente è come se fosse una storia molto molto lunga Per esempio Grant Morrison ha creato la serie comica Gli Invisibili No, la serie di fumetti invisibili Fumetti, scusate, fumetti invisibili It lasted several years the creation of the series, it's a very huge series Che è durata diversi anni, è una serie molto 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 lunga E per lui questa serie è come un ipersigillo E ha funzionato perché lui si è identificato nel protagonista che era King Mop E lui praticamente quello che effettivamente il protagonista viveva nel fumetto poi lui lo viveva nella sua vita di tutti i giorni E per esempio a un certo punto del fumetto il protagonista si ammala e anche Grant Morrison si ammala ma molto gravemente al punto di dover correre in ospedale preso per la cuffia E dopo questa esperienza ha deciso di far vivere al protagonista delle esperienze positive E quindi di conseguenza anche Grant Morrison stesso poi ha iniziato a divertirsi di più Ha anche incontrato nella sua vita vera diverse persone che assomigliavano particolarmente a dei personaggi della serie del fumetto Sì questo è un esempio dell'ipersigillo nella forma di fumetto ma può essere anche un film, una serie tv, altre cose di questo tipo Bene, io tra l'altro vi consiglio per chi è interessato alla magia è imprescindibile leggere Invisibles di Grant Morrison Quindi se siete in ascolto acquistatelo se non l'avete ancora fatto e leggetelo assolutamente E ultima domanda per chiudere questa puntata che ha una domanda di Deserere Allora, ritieni che la Chaos Magic con tutta la sua ricchezza sia più indicata per i veterani o piuttosto per i neofiti So, our last question is from Deserere And she or he wants to know whether you think that Chaos Magic with all its richness is better for the veterans, for the elders, for those who have been practicing for a long time, or for the neophytes? I think Chaos Magic is for all, of course Per lui la Chaos Magic è per tutti Ma per via dell'approccio riduttivo nel senso più spoglio e pratico Forse è più adatta a chi ha una conoscenza più ampia e da più tempo di tutta la magia È sempre meglio conoscere un sistema prima di cambiarlo, modificarlo, toglierlo, eliminarlo o togliere alcuni aspetti Ma con la giusta guida, il giusto monitoraggio è un approccio che può avere anche un principiante senza nessun problema I libri che infatti ci ha consigliato prima aiutano molto in questo senso Bene Perfetto, è stato un vero piacere Averti, Agen, qui per parlare di Chaos Magic Veramente, è stata una serata speciale It was a pleasure having you, it was a special night having you talking about Chaos Magic to us Thanks a lot, it was really a great pleasure to be here with you Grazie, è stato un piacere essere qui con voi È sempre un piacere averti, tra l'altro sei sempre invitato qui sul nostro canale, come sai It's always a pleasure to have you and also you're always welcome to come back anytime Io ringrazio anche tutti voi che eravate in linea Ringrazio tantissimo Valentina per essere stata con noi e per aver tradotto Ringrazio anche il direttore qui Vuoi venire a salutare il direttore qui presente Che mi ha ospitato questa sera per la diretta Eccoci qua Buonasera a tutti Buonasera Il direttore Quinte, effetto speciale Marco Maculotti, tra l'altro direttore di Axis Mundi Sarà presente con noi dal 23 maggio Per un corso sui miti nordici Per avere informazioni, vi rimando sempre alla nostra mail A società dello zolfo che ho sulla gmail.com E dopo questa comparsata Io vi saluto, vi auguro un buon weekend E grazie di essere stati con noi Ciao a tutti Buonanotte Bye Bye